Il poeta di questa puntata è Umberto Fiori, il suo libro è autoritratto automatico. La poesia di Fiori ci parla di una ricerca durata decenni sulla propria immagine, ripresa e ritratta da quelle macchinette per le fototessere che erano oggetti avveniristici negli anni sessanta e che oggi sono diventati desueti. Che cosa collega questo poeta a questa poesia, al mago, all'alchimista, a colui che indaga oltre le soglie del visibile? In realtà, proprio nello scrutare l'aspetto esterno di se stesso e delle cose, Fiori ci racconta tutto ciò che visibile non è. Il passare del tempo, il mutare delle ideologie, i sentimenti perduti, le amicizie, il presente e il futuro. La gorgera, il tricorno con le piume, le spille, la frangia, il farsetto, l'eschimo, l'elmo, la maglietta a righe, gli occhiali neri e le basette. Alle 9 e 31, il 10 di gennaio del 1977, non sapevamo di essere in costume. Grazie.